Domenica bussi sul Tirino, la giornata della pace e della solidarietà. Promuovere l'iniziativa come sempre Francesco Barone, docente presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila e presidente dell'Associazione Onlus Help Senza Confini, con alle spalle oltre 50 missioni in Africa ed ambasciatori in Occidente della drammatico documento del premio Nobel Denis Mukwege, il chirurgo che ha denunciato al mondo intero le barbarie contro donne e bambini, in particolare nel Congo, e che ha personalmente ricostruito l'utero a migliaia di donne stuprate. Questa importante manifestazione viene a seguito dell'incontro che ho avuto col premio Nobel per la pace Denis Mukwege e ho ritenuto di volerla organizzare e fare a bussi, che è il mio paese d'origine. Noi partiremo la mattina con questa marcia per la pace, una marcia a cui hanno aderito tutte le associazioni presenti nel paese, ma anche la popolazione, viene gente da fuori. C'è una sensibilità ritrovata rispetto a questo grande problema della pace. Pomeriggio ci sarà questo dibattito con al centro questi problemi del Congo, ma soprattutto sul documento che il premio Nobel per la pace ha dato al professor Barone. Ci sarà il vescovo di Valver sul Mono. E poi la sera, a conclusione di questa grande giornata di queste manifestazioni, ci saranno i gruppi musicali locali che canteranno le canzoni anche in tema per quanto riguarda la pace. Dopo oltre 50 missioni, il professor Barone è pronto a ripartire prossimamente. Quali sono i prossimi step? Prontissimo per la partenza. Partiremo la metà di agosto per il Congo. Insieme a me verranno altri tre volontari. Sarà l'occasione per portare i fondi raccolti agli orfanotrofi, alle popolazioni che vivono in difficoltà, cercando di alleviare le sofferenze di questa popolazione congolese.